Il sindaco Davide Drei Il sindaco Davide Drei Il sindaco Davide Drei Questo è importante, bisogna avere la consapevolezza che non è più come era un tempo prima che chiudesse, prima che la società SEAF chiudesse, quella era una società pubblica che era a diretto controllo pubblico ma era anche a diretto onre pubblico. Oggi quello che siamo riusciti a fare è stato di mantenere la possibilità di gestione dell'aeroporto ma non più con una gestione pubblica ma una gestione privata. Ci sono importanti imprenditori forlivesi, romagnoli che si sono messi in gioco per questa nuova vita dell'aeroporto Ridolfi di Forlì e lo stanno facendo secondo me in maniera molto seria. Sì, sono entusiasta. E non era scontato e che ha già comunicato, ha già annunciato che investerà in infrastrutture di fronte all'avvio del progetto di gestione. Però ecco, ovviamente servono tutta una serie di passi anche che coinvolgono lo Stato perché ci saranno comunque i presidi ad esempio delle forze dell'ordine e di sicurezza che devono essere messi in campo. Quelli che c'erano fino a 2013 sono stati svantellati, oggi c'è bisogno di costruire quello che non c'è più e ovviamente un aeroporto funziona solo se è in piena sicurezza. Poi chi sta dirigendo oggi le operazioni dell'aeroporto sta anche lavorando per avere i voli che dovranno arrivare nella nostra città. Quindi io credo che la macchina, il percorso sia avviato e che ci sono davvero le condizioni perché nei prossimi mesi possiamo rivedere gli aerei decollare e atterrare di nuovo all'aeroporto di Forlì. Sì, questo è un lungo calvario. I prossimi mesi parliamo di giugno grossomodo. Ma quello è l'augurio veramente migliore. Anche perché si sta lavorando adesso, no? Si sta già lavorando, si sta già muovendo. No, 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 quindi è già ricominciata l'operatività dentro l'aeroporto. Però ovviamente una cosa è la sistemazione dell'infrastruttura, un'altra è quel mercato nel sistema dell'aviazione su cui sta lavorando la struttura della società, della nuova società. Sindaco, è bastato l'entusiasmo dimostrato dagli imprenditori, dal fatto che c'è questa volontà reale a far cambiare idea alla regione, anche ai nostri discutibili antagonisti come alcuni comuni, alcune strutture, eccetera, eccetera. È stato l'entusiasmo, se ne sono accorti, che questi fanno sul serio. Io credo che questo sia servito molto. Io manifesto anche questa considerazione. Quando sono arrivato cinque anni fa, io ho avvertito il senso della solitudine, della Forlì, che non aveva nessuno vicino sul tema del riavvio del proprio aeroporto. C'era molta demotivazione. È vero che era arrivato l'imprenditore americano, che ha illuso tanti in maniera inutile e anzi ci ha solo fatto perdere del tempo. Però davvero c'era solo Forlì che spingeva in questa direzione. Gli anni successivi sono serviti a creare di nuova attenzione sull'importanza del nostro aeroporto, prima fra tutti le associazioni di imprese di categoria della Romagna. A quel punto Forlì non era da sola e c'è stato un chiaro e concreto appoggio a partire della regione Emilia Romagna, per le cose che ho detto. Ma voglio anche ricordare la SPO la fatta con Roma, al Ministero dei Trasporti e a ENAC, proprio per ottenere la continuità della concessione, delle attività sul nostro aeroporto. Voglio ricordare che abbiamo anche difeso in questi anni quanto andava mantenuto, per cui il sistema dei controlli di volo da parte di Enam non sono mai venuti meno. Per cui è un aeroporto attivo tuttora, ricordiamo, ma che ha bisogno di avere tutte quelle implementazioni per tornare ad avere i voli commerciali. Io credo che non ci siamo mai stati vicini come in questo momento, alla possibilità di poterlo riaprire. Bene, questa è una bella notizia finalmente. E poi, l'ultima cosa, c'è la possibilità che alcuni dei dipendenti, i vecchi dipendenti, possono essere recuperati? Ci sono dei colloqui? Beh, certo, ricordiamoci questo. Questa è una realtà privata, che è quindi tutta sul rischio imprenditoriale dei soci. È vero che hanno anche la libertà di poter ereditare le competenze di quel personale che c'era già e sono già stati presi i contatti per poterlo fare. Io mi auguro davvero che non si disperda le professionalità presenti nella gestione precedente. Credo che sia anche utile all'attuale gestione, mettere in campo una possibilità per gli ex lavoratori self. Certo, è così con l'aeroporto. Abbiamo detto delle parole, mi sembra, abbastanza evidenti e acclarate. Sindaco, vado subito sull'attualità. Si respira una nuova aria nel PD, mi sembra, con l'elezione del fratello di Montalbano, per fare nome dell'ispettore Montalbano, anzi del commissario. Beh, io credo che sia stato tanto importante questa grande partecipazione alle primarie. Al di là di che fossero i candidati... Probabilmente anche in attesa, però direi che sono avvenute alcune manifestazioni nell'ultimo mese di notevoli interessi. Mi riferisco a diverse manifestazioni, sia da ambito sindacale. Voglio ricordare quello che c'è stato a Milano la settimana scorsa, che è una manifestazione nata in sordina, ma che sul tema dei diritti umani e dei diritti civili è stata importantissima. Milano, ero Milano ieri, per un'altra iniziativa legata all'Europa. Anzi, lanceremo una giornata per l'Europa il prossimo 21 marzo, come sindaci d'Italia. E Milano è davvero oggi stata una capitale della rinascita anche della società civile che interviene su alcune partite fondamentali dei diritti umani. Io credo che questa enfasi sia stata raccolta da un popolo. È bisogno oggi di rilanciare un'idea di partecipazione. Quindi il PD testimonia certamente di essere il partito delle primarie, che le primarie sono importanti e servono perché smuovono e smobilitano la volontà dei cittadini di partecipare. Poi l'esito è stato inequivocabile, forse inaspettato nelle dimensioni. Credo che il PD non possa oggi che riconoscere di avere un solido nuovo segretario che comunque ha fatto aperture di collaborazione e di collegialità. e credo che anche chi non si riconoscevano generalmente in lui, oggi lo riconosca e si apre una fase e una stagione di motivazione nuova. E poi si vedrà. Io credo oggi che ci sia bisogno di rendere solida una base importante della partecipazione democratica di un partito democratico nel nostro Paese. Certo, poi è anche importante e anche significativo una vittoria così evidente. Questo significa che c'è fiducia, perché se no non sarebbe stata una vittoria come si definiscono bulgare, quasi bulgare. Una vittoria netta, certamente. Adesso poi, come succede a tutti, che tu sia sindaco, che sia segretario di un partito, poi bisogna pedalare. Certo, dopo sì. Con le responsabilità, con il potere. Dopo la bicicletta non si può mettere in garasmo, bisogna pedalare. Bisogna renderla molto... Perfetto. Sindaco, so che subito dopo questa intervista c'è una conferenza stampa. Di cosa si tratta? Importante. Ma qui è una conferenza stampa di un percorso che si sta facendo, in particolare in una zona della nostra città, la zona del quartiere San Pietro, e in particolare in Corso Mazzini. Forse Corso Mazzini, nelle diverse difficoltà di animazione del centro storico, rappresentate una delle zone in ombre della città. Ma da qualche mese abbiamo dei segnali importanti, dei segnali positivi, che sono dovuti anche a una rinnovata, anche qui motivazione, degli esercenti e dei cittadini del territorio. Su questo noi abbiamo promosso, come comune, come amministrazione, una, come dire, la riedizione di iniziative vincenti. Fra tutte voglio ricordare l'esperienza di via Giorgio Rignoli, una via dimenticata, una via con molti problemi, rilanciata da un'associazione tra gli abitanti e i commercianti, che era Rignoli, che è tuttora Rignoli 41. Ebbene, quel gruppo lì è stato il gruppo che ha portato quella esperienza, l'ha portata sugli abitanti di Corso Mastini. Per cui nasce una nuova associazione, nasce una serie di progettualità condivise con il comune, che devono rilanciare gli esercizi commerciali e l'orgoglio anche di essere cittadini di una via, di una zona che è stata nobile per la nostra città, una tra le zone più storiche e più importanti, anche dal punto di vista commerciale, e che deve provare a individuare gli obiettivi dei prossimi anni. Oggi si gettano le basi di questa rinascita, rinascita di Corso Mastini, ma questa cosa qui la possiamo fare solamente con chi la vive, non è qualcosa che viene dall'alto. Dobbiamo sostenere chi ha le idee, chi ha le volontà, e questi sono quelli che la vivono tutti i giorni. Tra l'altro, adesso è ritornata l'abitudine giornalistica, si faceva in anni, vent'anni fa, venticinque anni fa, si intervistano nei giornali molte fotografie, testine, come si chiamano in gergo, di cittadini, commercianti, che devono esprimere delle opinioni. Ne vedo quasi ogni giorno, ne leggo sul resto del Calino e anche su altri quotidiani. E si parla un po' di tutti i problemi, vedo che c'è meno desolazione nei commenti, anzi molta meno, si parla un po' del centro storico che ha bisogno, che ci siano i parchimi, che non si paghi così tanto, centro storico, per arrivare al dunque, mi sembra che si sia rivificato, soprattutto sotto le feste di Natale, sono state date delle dimostrazioni molto significative che si sta muovendo qualcosa. Noi abbiamo dimostrato che i percorsi possono non essere facili e si implementano le possibilità in questi anni. Ricordo che cinque anni fa, al primo anno di mandato, il Natale 2014, portammo per la prima volta... Secoli fa. Cinque anni ormai è un'era geologica. Portammo la pista di patinaggio in Piazza Safia, una prima sperimentazione, poi l'anno successivo la pista definitiva. Adesso guai a togliere la pista di patinaggio in Piazza Safia a Natale. Però nel frattempo sono nate e cresciute tante altre cose. Quest'anno la luce è portata nelle piazze, nei palazzi, perché in realtà è stata la luce la vera novità, ma la novità perché in realtà la luce illumina di bellezza una delle piazze più belle che io credo abbiamo in Romagna e fuori probabilmente nel nostro paese. Per cui sono venute persone non solo da fuori città, ma da fuori Romagna, fuori regione, attratte e richiamate da questo Natale straordinario che è stato l'ultimo Natale. Quindi i percorsi possono essere anche lunghi perché comunque vanno coinvolte, vanno intanto trovate le risorse. C'è stata una grande operazione di risanamento del bilancio comunale per poter spendere e trovare i soldi anche per questo evento. Abbiamo coinvolto le associazioni di categoria, abbiamo coinvolto la fiera e abbiamo trovato degli operatori davvero fantastici quest'anno. Per cui credo che la linea sia tracciata e chiunque erediterà questo comune oggi abbia una base su cui lavorare per le novità dei prossimi anni, dei prossimi Natale. Ha detto bene il sindaco chiunque perché al momento c'è una grande incertezza ma quello poi è un problema che a lei riguarda fino a un certo punto. Dunque mi rimangono altri due temi sempre sul discorso della città viabilità, mobilità e sicurezza mi sembra che su questo fronte sia stato fatto moltissimo con l'assessore Ravaioli insomma anche dal punto di vista della sicurezza parlavo con il questore l'altro giorno mi sembra che insomma noi abbiamo avviato un tavolo importantissimo o meglio partecipiamo al tavolo importantissimo della prefettura che è il comitato ordine e sicurezza. la collaborazione tra istituzioni e forze dell'ordine ha portato a un calo dell'attenzione sui reati tipici degli ultimi dieci anni nella nostra realtà che sono i furti in abitazione in imprese ma soprattutto in abitazione c'è un calo testimoniato dalle stesse forze dell'ordine ma non ci possiamo accontentare dei cali perché da dove avvengono sono comunque un dramma e allora l'impegno che ci siamo presi dopo aver risanato il bilancio e trovato le risorse è stato quello delle diverse cerchie di videosorveglianza centro storico assi tangenziali periferie e quartieri quindi noi finanziamo e lanciamo un progetto importantissimo di videosorveglianza e videocontrollo che è quello che ci chiedono le forze dell'ordine sono delle isole sostanzialmente sono isole nelle frazioni sono punti fissi lungo l'asse tangenziale e negli nodi principali della viabilità della città e poi ci sono quelle che saranno comunque sono dei deterrenti in ogni caso sono dei deterrenti ma sono dei deterrenti che funzionano nel senso che sono ultime tecnologie sono dotati di software che comunicano direttamente con le centrali operativi delle diverse forze dell'ordine sono dati interscambiabili con le altre città perché ogni città non è più un'isola che fa il suo progetto ma deve lavorare in un contesto e quindi siamo molto contenti di aver avviato questo nuovo campione queste isole non sono i vigili di cartone che tanti anni fa si facevano lì che potevano essere da fare da deterrenti quindi ci siamo anche sotto questo aspetto le voglio fare una domanda un po' atipica perché ho visto leggevo proprio l'altro giorno un servizio e si parlava del faro di rocca delle camminate però come presidente della provincia non era proprio contrario con altri non da solo al fatto di questo faro famoso che ha sollevato una diatriba incredibile con vaghi sapori di politica di ideologia eccetera che secondo me sono assurdi il sindaco non dico che fosse favorevole però faceva dei ragionamenti ma io ho raccolto intanto la volontà di esplorare la possibilità di questa riaccensione che veniva dai due sindaci che condividono la rocca delle camminate il sindaco di Mello e il sindaco di Pellano che si erano come dire avevano manifestato un'idea favorevole a valutare un'ipotesi di riaccensione e io come proprietario di riaccensione come richiamo insomma come magica come presidente della provincia allora ho fatto fare tutte le verifiche di ordine tecnico e di ordine giuridico per cosa può significare l'accensione di quel faro è un aspetto davvero complicato molto complesso oggi le norme sono eccessivamente sono molto rigide in maniera molto stretta stringente su un inquadimento luminoso sulla inquinamento o meglio sulla possibilità che non ci siano delle controindicazioni rispetto alla navigazione aerea e anche alla navigazione marittima quello non è un faro strumentale come oggi ci sono diciamo alle funzioni di navigazione ma è un faro storico quindi oggi è difficile anche ascriverlo a una utilità specifica poi c'è anche un problema di natura tecnica andiamo dentro dei meccanismi degli ingranaggi che funzionavano 70-80 anni fa e quindi la loro riattivazione avere valutazioni in quest'ordine da parte della sovrintendenza è un progetto davvero complesso e complicato in più poi si è scattelata una polemica sì io non me l'aspettavo e devo dire la verità non penso neanche che siamo un territorio che con la storia sta facendo i conti sta come dire rilanciando nella Italia dei 2000 nella nostra comunità degli anni 2000 un'idea di memoria critica e razionale di quanto è avvenuto ma neanche di nascondere le cose per cui la rocca delle camminate è nata e cresciuta proprio del suo rilancio proprio con l'idea di non dimenticarci di un manufatto che è stato fatto come dire negli anni del regime fascista ma è anche vero che oggi va rilanciato negli anni della modernità ecco perché la rocca ecco perché non è necessario che noi ci dividiamo oggi sul farro quando abbiamo una grande occasione di promozione della nostra terra della nostra provincia della nostra Romagna con la rocca delle camminate un restauro magistrale un luogo che oggi è luogo della scienza e della cultura voglio ricordare che lo usa l'università lo usa il tecnopolo per la ricerca scientifica e per qualche anno c'è il vincolo di utilizzo ma io credo che potrà essere anche molto di più nei prossimi anni e qualche idea c'è già per la promozione turistica della Romagna ecco che non sarebbe male perché è una terra splendida lo sappiamo tutti quindi bisogna fare ancora molte cose ci sono ancora 5 minuti allora li uso in questo modo qui innanzitutto le chiedo sindaco una valutazione un giudizio non politico ma un giudizio obiettivo se è possibile su il nostro paese dei dati non sono certamente ottimistici lei come cittadino io glielo chiedo come cittadino non come sindaco non è una bella situazione no io avevamo pochi giorni fa abbiamo avuto qui a Forlì l'assemblea provinciale di Confindustria è venuto anche il presidente nazionale Boccia e ci portava in diretta praticamente gli ultimi dati sulla economia nazionale e quindi impicchiata sulla crescita e grande preoccupazione sulla sospensione e la stasi di alcune opere pubbliche fondamentali opere pubbliche che generano lavoro di per sé ma che a volte sono strategiche proprio per i movimenti la dinamica materiale e economica del paese quindi davvero preoccupazione ma io lo dico qui non voglio fare politica non parlo di chi c'è no no ma esatto glielo ho chiesto come cittadino dico solo che quando poi ci si assume la responsabilità qualsiasi responsabilità lo puoi fare da sindaco della tua città o lo puoi fare anche da capo del governo per gestire per governare questo paese bisogna poi smetterlo di usare gli slogan e bisogna invece avere anche l'umiltà di chi riconosce in che situazione si è e che serve in realtà parlare razionalmente chiaramente agli italiani se parliamo con la pancia se alla pancia degli italiani se usiamo gli slogan se spostiamo l'attenzione non su tema della ricchezza e della distribuzione della ricchezza del paese perché il tema vero di fondo è la forbice che c'è oggi tra le categorie le fasce degli italiani allora non possiamo guardare solo alle medie dobbiamo guardare anche agli ultimi ricordiamoci io credo che ci sia oggi una grande emergenza intanto sui redditi e ci sono davvero troppe fasce di italiani con redditi ancora troppo bassi e dall'altra parte alcune categorie sociali nella fascia giovanile in particolare dalla grandissima incertezza sul loro futuro noi siamo generazioni che in maniera diversa hanno saputo comunque che c'era un percorso per loro che si dovevano guadagnare poi come dire il lavoro e il reddito oggi c'è una enorme incertezza che porta tanti ragazzi e tanti giovani a non guardare più al proprio paese ad esempio a guardare all'estero noi ci devo dire la verità ci preoccupiamo troppo dei migranti che arrivano e che vanno gestiti voglio dire con regole diritti e doveri perché abbiamo dei doveri di salvaguardare le viti umane ma dobbiamo anche richiedere i diritti della convivenza e questo non c'è non c'è assolutamente il dubbio ma ci concentriamo poco invece su quanti non ce la fanno più e che guardano già loro altrove con cui muoverci credo che se vogliamo essere davvero un'Italia attenta al popolo attenta al sociale abbiamo bisogno di guardare davvero a queste fasce dargli voce e metterci vicino a loro allora le faccio l'ultima domanda che gliel'ho fatta anche l'ultima volta che ci siamo visti però le cose possono anche cambiare siamo tra poco tempo insomma ci saranno le elezioni ci sarà un nuovo sindaco lei lascia non le chiedo l'altra volta le ho chiesto di fare un bilancio non glielo chiedo questa volta evitiamo di fare bilancio perché ne abbiamo già parlato poi sostanzialmente però vorrei sapere e gliel'ho già fatta l'altra volta ma glielo faccio ridire che cosa ha intenzione ha idea di cosa farà da grande il sindaco ma allora intanto tornerò al mio lavoro perché poi io lavoro nel mondo cooperativo certo io mi sono occupato per tanti anni di sociale di attività sociale soprattutto come si dice persone più deboli fragili da persone con disabilità persone migranti alle persone anziane nell'organizzazione dei servizi attraverso le cooperative cooperative quindi una particolare sensibilità su questo fronte è un po' la mia storia professionale molto legata ai temi del volontariato del terzo settore credo che sia stato anche quello diciamo la molla che mi ha portato a fare poi l'esperienza amministrativa prima come assessore e poi come sindaco quindi quello è il mio mondo il mondo in cui tornerò a operare non mi occuperò solo di quello evidentemente perché comunque dieci anni di esperienza di amministratore ma che offerta l'avrà avuti io adesso non glielo chiedo ma insomma qualche idea qualche strada si è aperta vedremo cosa succede vediamo cosa succede non vogliamo invadere il futuro l'importante è che facciamo sempre tutto nell'idea di svolgere un servizio per la comunità per i cittadini sindaco grazie grazie ancora di essere venuto grazie auguri per quello che le resta da lavorare per quello che farà dopo grazie ancora grazie a voi per l'attenzione grazie a tutti grazie a tutti